Siamo Gianna Gissi, Lorenzo Baraldi, scenografo, io costumista, fra le tante esperienze una delle più indimenticabili è il postino girato a... L'isola di Salina, non soltanto come lavoratori di cinema e come cinefili, ma soprattutto come cittadini vogliamo il cinema a Salina. Sì, vogliamo il cinema a Salina, il progetto è bellissimo, è splendido, Clara Rametta lo sta cercando di portare a compimento, è molto difficile ma tutti quanti dobbiamo cercare di aiutarla. Dobbiamo aiutare l'associazione Didyma 900 nella costruzione finalmente, nella realizzazione di questo sogno che Clara e tutti gli abitanti di Salina e delle Olie sperano venga concluso.